La parola è come un sistema atomico, che ha un significato, un nucleo centrale e tanti significati che ruotano attorno. Può essere multiforme, può essere, ha la stessa tensione della parola poetica, che la parola si trasforma e può diventare poesia. E questo è il bello della parola, che non è mai data così una volta per tutte. Può mutarsi, anche secondo a cosa o a chi accosti una parola.